Cristo! Ridammelo! Stammi lontano. La mia metà era nella borsa, ora è sparita. Qui non c'è nessun altro che possa avere interesse a mangiarsi mezzo coniglio, tranne te! Dico bene? Sei l'unico che pensa ancora a quella stronzata! Tira fuori la tua roba! Ti ho detto di starmi lontano! Hai preso tu il suo coniglio? Dimmi la verità. Non ho preso niente. Che cosa abbiamo qui? Andiamo? Ma tu guarda. Ce l'hai messo tu, non è vero? Quando sono uscito a pisciare! Hai mentito! Non è vero? Hai mentito! Hai rubato! Vogliamo dare una lezione a questo coglione o no? Buono, buono, buono. Daryl dice di non aver preso la tua metà del coniglio, quindi abbiamo un piccolo enigma qui. O lui sta mentendo, il che vuol dire che è un'offesa che va punita, o non ce l'avrai mica messo tu come uno sbirro cacasotto, coglione, codardo e bastardo, vero? Perché anche se non è specificatamente vietato dalle regole, sarebbe deludente. Certo che sì. Non l'ho fatto! Bene. Allora? Dategli una lezione, signori. È un bugiardo pezzo di merda, mi ha stancato. Una bella lezione. Ho visto che lo faceva. E perché non l'hai fermato? Volevo andare fino in fondo, l'ho lasciato fare. Tu hai detto la verità. Lui ha mentito. Tu capisci le regole. Lui no. Ora avrai anche la testa. Lui no. Allora? Lui ha mentito. Allora? Lui che vuole. Lui.